Mi chiamo Maurizio Pugno e sono qui a illustrarvi sommariamente cos'è Bluesland. Io vivo e ho vissuto con più di 35 anni di attività in giro per il globo, il blues, ma direi la black music in toto, con enfasi mediterranea. Crescendo a Gubbio, in Umbria, tra palazzi del 1100, Bluesland è un viaggio anomalo fatto di aneddoti e vita vissuta, di chitarre e video, di podcast PDF e chat, di meeting one to one e curiosità, di guida all'ascolto, performance, di suggestioni, recensioni, di extra e molto altro. Proverò a raccontarvi la storia di questa terra come forse non l'avete mai sentita prima, una vecchia storia piantata nel contemporaneo. I livelli di abbonamento sono così suddivisi. Livello 1, Walking. In questo livello passeggeremo insieme camminando con le parole. Livello 2, Walking and Playing. Oltre a tutto ciò che trovate nel livello 1, in questo livello proverò, da bravo cameriere della musica, a servirvi su di un piatto unico, materie prime e condimenti, che serviranno, credo, spero, a speziare con il blues le vostre peculiarità o curiosità musicali, sia che siate musicisti che dei semplici appassionati di musica. E qui, chitarra in spalla. Livello 3, Walking, Playing and Living. Questa è la terza dimensione di Bluesland, dove la vibrazione reale tra me e voi potrà farci incontrare su vari livelli di relazione. Sono qui a travasare la mia esperienza di vita, spesa on the road, in una comunità, nel tentativo di condividere con voi le esperienze reali che la musica suonata mi ha offerto. Qui potremo programmare degli incontri in video chat, Skype, Whatsapp, eccetera, dove chiedermi tutto ciò che pensate, avere delle video lezioni, formulare i vostri dubbi, domande, proposte o tutto ciò che credete possa essere per voi motivo di curiosità. In questo livello potete scaricare il podcast di tutta la puntata in mp3. Ogni livello verrà di volta in volta irrobustito da materiale extra che raccoglieremo cammin facendo. Il blues è la polvere se c'è il sole ed il fango se piove. Su cui la musica leggera cammina ormai da oltre 100 anni. E sarà un viaggio atipico, che non parte dal pre-world blues per finire nel Chicago blues e così via, ma che parte dal contemporaneo di allora per finire nel contemporaneo di oggi. Questo è Bluesland e noi ci troviamo qui per difenderla, in quanto era e della terra di tutti. Iscriviti ad uno dei tre livelli ed inizieremo un percorso comune da tracciare su questa terra senza orizzonte. Bluesland Grazie. Grazie.